amici di fano tv bentrovati un altro approfondimento a tema politico con ospite in studio do subito il benvenuto a lucia tarsi buonasera buonasera a tutti candidata consigliera regionale della lista civitas civici a sostegno di francesco acquaroli lucia tarsi è una donna una moglie una mamma un insegnante di matematica e fisica ma soprattutto lei è una fanese a cui stanno a cuore i problemi della sua città io partirei subito in maniera così dirompente maria elena per favore ci possiamo dare del tu perché lei distanzia troppo mi piace non è nelle mie corde allora ci diamo del tu e vorrei partire proprio dal tuo percorso grazie che è un percorso non politico ma civico è un percorso civico e chi mi conosce e chi ha seguito anche la campagna elettorale dell'anno scorso sa che in realtà la mia esperienza iniziale è stata un'esperienza di volontariato per alcuni anni sono stata il presidente di una cooperativa di tipo b che si occupava di inserimento di inclusione lavorativa di ragazzi con disabilità e negli stessi anni ho iniziato a far parte del gruppo del comitato santa croce in difesa dell'ospedale e il comitato santa croce i fanesi lo sanno raccoglie tutte le battaglie di gian carlo danna e ha proseguito in questi anni tutte le sue battaglie quindi la mia esperienza politica in politica è iniziata in realtà con un impegno civico in difesa di tante situazioni problematiche critiche che ci sono nella nostra città la mia curiosità è un'altra a distanza di un anno dal ballottaggio insomma dalla tua candidatura qual è stata la spinta qual è stato il motore che ti ha dato la voglia di rimetterti in gioco in qualche modo questa è sicuramente una domanda personale e mi fa piacere essere qui a chiarirla perché viene da un percorso interiore e di amicizia e quando durante la campagna elettorale dello scorso anno in realtà si parlava con tante persone tante persone nuove è stata un'esperienza veramente meravigliosa perché oltre a quelle persone che hanno fatto parte del mio staff e che mi hanno accompagnato sei mesi con cui veramente ho quasi convissuto per sei mesi e poi ho incontrato durante quei mesi tanta bella gente persone magari non conosciute prima che poi si sono rivelate per essere delle persone molto ricche interiormente subito dopo il ballottaggio io ho avuto un'estate molto calda dal punto di vista delle amicizie cioè sono arrivati messaggini lettere persone che mi fermavano per strada un evento tra tutti mi ritrovo al supermercato con il carrello e sento una voce da dietro che è una voce maschile che mi dice signora non arretri di un passo signora Tarsi non arretri di un passo io per lì ho pensato che stavo impicciando col carrello dico oddio sto buttando giù qualcosa e invece era un signore che mi aveva riconosciuto e sicuramente un sostenitore mi stava veramente dando la voglia di continuare su quei temi ci sono persone che si sono fidate io ho fatto delle proposte quelle proposte sono rimaste purtroppo azzuppate a metà le cose che abbiamo raccontato in campagna elettorale purtroppo si sono avverate in senso negativo parlavamo di digestore il digestore sta per essere costruito dicevamo che l'ospedale Santa Croce era sempre più svuotato e infatti così è quindi la gente sa bene che le cose che raccontiamo che ho raccontato sono corrispondenti a verità e allora che cosa in qualche modo l'evoluzione è stata normale è stata naturale la spinta di chi ha avuto fiducia adesso spero che possa essere contraccambiata qualche mese fa è arrivato anche un invito da parte di Paolo Mattei Paolo Mattei vive a Loreto ma è il nipote del grande Enrico Mattei che ha fondato l'Eni quindi origini di Acqualagna, origini molto locali e lui mi ha chiamato perché stava costruendo una lista civica che parte dai sindaci del cratere del terremoto quindi del maceratese e dell'ascolano ho conosciuto questi sindaci, ho visto la fatica, la criticità, il dolore ma anche la voglia di ricostruire di queste persone il progetto mi è piaciuto e quindi ho aderito e ho collaborato alla costruzione della lista sul pesarese e poi ho deciso di candidarmi su appunto richiesta dei miei compagni di viaggio ed è nata questa lista ed è nata questa lista ed è nata questa candidatura e quindi siamo in stretta finale per riuscire a portare però un percorso e un progetto che comunque è legato strettamente al territorio, alle nostre professioni, alle nostre competenze e tra noi non ci sono professionisti della politica, non ci sono politici di mestiere ci sono semplici cittadini che dedicano parte della loro giornata e della loro vita all'impegno civico Un tema di grande attualità e molto scottante è quello che riguarda la sanità è un tema scottante perché è una realtà che stiamo vivendo, affrontando ormai da una quindicina d'anni quest'anno il Santa Croce compie cent'anni, un compleanno non festeggiato e so che tu in prima linea ti batti proprio per una sanità pubblica naturalmente e funzionale Questo è il tema con cui vengo spesso identificata ed è il primo grande tema che mi ha portato sul percorso politico la difesa dell'ospedale Santa Croce che si poteva già sapere nel 2012, adesso io faccio un passo indietro Quando viene varato il piano socio-sanitario del 2012, in realtà sarebbe bastato leggerlo per capire che cosa stava per succedere Io mi sono portata, me lo scrivo sempre perché ho paura di non impararlo a memoria però letto e copiato da quel piano socio-sanitario vado a esporre la frase che descriveva i progetti per la provincia di Pesaro Il complessivo piano di azioni riguarda quindi il consolidamento a nord della regione dell'azienda ospedali riuniti Marche Nord ad integrazione della realtà di Pesaro e Fano, quindi già nel 2012 si sapeva che le due strutture sarebbero state integrate e attenzione cosa c'era scritto, con la realizzazione di una struttura unica per la copertura del bisogno di cura e assistenza a livello minimo di area vasta, cioè era già scritto che la volontà politica era quella di andare a costruire un solo ospedale ma non per fare dell'eccellenza, ma come recita il testo il bisogno di assistenza e cura a livello minimo quindi assolutamente le eccellenze tutte ad Ancona, la nuova struttura avrebbe dovuto ospitare dico ancora avrebbe dovuto perché ancora non è nata, dovrebbe ospitare soltanto il livello minimo nel frattempo che cosa è stato fatto? Quindi con la volontà di arrivare ad un'unica struttura cosa ha fatto il governo regionale e il PD in prima persona? Hanno perseguito una logica di svuotamento di tutti gli altri ospedali di modo che i pazienti fossero costretti prima di tutto a scendere sulla costa e dalla costa poi andare verso la struttura di Pesaro Questa strategia è stata attuata con un percorso assolutamente quasi scientifico cioè un depotenziamento fatto giorno per giorno in maniera strutturale, in maniera scientifica e ha portato a quello che abbiamo oggi tutti i reparti significativi trasferiti a Pesaro a Fano è rimasto veramente poco oggi è rimasto forse qualcosa di più rispetto a sei mesi fa per via del Covid perché qualche reparto si è salvato con il trasferimento da Pesaro a Fano ma se ritorniamo a pensare a quel che era prima del Covid l'ospedale di Fano era stato veramente svuotato di ogni funzionalità ora in queste settimane io che giro per tutta la provincia quindi ho conosciuto le realtà di Cagli, di Sasso Corvaro, di Fossombrone cioè tutte le città dell'interno che avevano un ospedale e questi ospedali sono stati svuotati svuotati in alcuni casi sono rimasti vuoti in altri il servizio pubblico è stato completamente sostituito con un servizio privato quindi dopo dieci anni di politiche di depotenziamento quello che noi raccontavamo dieci anni fa oggi si è purtroppo verificato in tutta la sua verità oggi sono tutti bravissimi a cavalcare l'idea no all'ospedale unico oggi siamo in campagna elettorale quindi tutti devono assolutamente allinearsi a quello che le persone sentono come esigenza primaria ma basta, insomma, un po' di memoria ce l'abbiamo basta ritornare indietro a leggere qualche titolo di giornale qualche intervista fatta anche dalle nostre tv locali per andare subito a risalire a chi politico in qualche modo in carica in quel periodo diceva sì all'ospedale unico siamo a favore dell'ospedale unico ecco, io dico che in questo momento sarà molto facile per la gente per la gente come me, per i semplici cittadini riconoscere chi ha agito con coerenza nel corso di 15 anni e chi invece è stato un po' ballerino e ha appoggiato ora una posizione e ora l'altra la gente saprà distinguere i politici di impegno quelli che fanno politica per passione dai politici di mestiere ecco, forse su questo tema sarà estremamente facile riuscire a fare questa distinzione un altro tema a cui abbiamo fatto cenno in apertura è l'ambito sociale prima di tutto perché sei un'insegnante sei una mamma quindi sei abituata a relazionarti più che mai con gli adolescenti poi per la tua esperienza personale quindi facendo parte aiutando una cooperativa ed essendo stata poi anche presidente di un'altra ti sei sempre spesa in qualche maniera nel sociale quindi a difesa e a tutela dei diritti di chi in qualche maniera si trova in difficoltà e quello che mi è piaciuto e che mi piace sottolineare è la parola inclusione che pare essere la soluzione di questo problema e di questo tema tanto delicato sì, è vero il tema dell'inclusione sociale è un tema che come l'ospedale viene sempre poi rispolverato in campagna elettorale è una bellissima parola che poi però nel momento della realizzazione pratica trova sempre una quantità di ostacoli incredibile, impressionante ci sono fasce di fragilità diverse che tra l'altro questa crisi economica ha incrementato ha aumentato anche nella numerosità delle persone in difficoltà ce ne sono alcune che sono in difficoltà da sempre che sono i disabili con le loro famiglie sottolineo con le loro famiglie perché accompagnando tante situazioni difficili di ragazzi disabili mi sono resa conto in questi anni che più del ragazzo disabile che vive la sua vita in maniera serena all'interno di una realtà familiare accogliente la maggior parte delle difficoltà sono a carico delle famiglie e soprattutto e da donna Maria Elena lo devo dire soprattutto a carico delle mamme che si fanno veramente in quattro, in dieci, in cinquanta per riuscire ad accogliere ogni esigenza del figlio disabile e degli altri figli che spesso sono anche famiglie anche numerose e non fanno mancare nulla a nessuno a prezzo di grandi sacrifici qualcuna mi dice io di notte non dormo qualcuna mi dice io non conosco sabati non conosco domeniche non conosco giorni di Natale e di Pasqua per me la vita è sempre fatta e scandita dagli stessi ritmi e dalle stesse necessità dalle stesse emergenze quando si parla di disabilità peraltro non bisognerebbe fare un unico tema un unico argomento perché di forme di disabilità ce ne sono tante ognuna con le sue specificità e ognuno di questi ragazzi ha le sue esigenze gli anziani il tema degli anziani è un tema che tocco personalmente con un papà in Alzheimer a Fano siamo 1200 le famiglie che hanno l'aziano con demenza senile 1200 famiglie che devono organizzarsi la vita pressoché da sole esiste una realtà che il centro Margherita che andrebbe replicato in tante copie ma il centro Margherita riesce ad ospitare poche persone bisognerebbe assolutamente lavorare per ottenere più centri diurni che possano ospitare la persona non mi piace chiamarlo malato la persona con Alzheimer perché sono ancora persone che hanno grandi risorse grandi possibilità di dare qualcosa e sono persone che purtroppo vivendo sempre soltanto all'interno del clima familiare finiscono per disperdere le ultime risorse le ultime energie così quasi nel vuoto queste famiglie spesso hanno bisogno di un sostegno esterno il badante la badante quindi lo possono fare solo a prezzo di grandi sacrifici del resto se devi andare a lavorare se tuo babbo o tua mamma stanno male devi andare a lavorare hai bisogno di qualcuno che ti sostituisca i costi li conosciamo tutti qualche volta c'è qualche figlio di persona con Alzheimer che finisce per rinunciare al proprio lavoro per poter gestire la famiglia ecco il tema del caregiver cioè dei familiari che assistono sarà un tema che dovremo toccare subito perché è un tema che sta coinvolgendo ora tante famiglie ma nel prossimo futuro queste famiglie saranno sempre più numerose lo sappiamo l'Alzheimer diventerà un problema importante scottante per i prossimi anni e quindi questo è uno degli impegni assolutamente da mettere in campo subito le fragilità legate poi al discorso economico ecco lì c'è un tema che poi si affaccia anche sul tema di tipo economico di sviluppo economico di ripresa economica di una regione che purtroppo in questi anni ha perso i suoi primati ha perso la grandezza che aveva dieci anni fa la regione Marche era una grande regione adesso è una regione povera che si sta impoverendo ogni giorno di più e gli effetti li vediamo sugli scontrini e sulla spesa delle famiglie sempre meno famiglie possono permettersi di mettere insieme il pranzo con la cena Lucia una donna tra le donne e per le donne un tema di quelli che non si verrebbero affrontare perché preferiremo parlare d'altro però esiste è il femminicidio e tu ti sei spesa e adoperata anche in tal senso con una mozione importante che mi piacerebbe tu ricordassi sì grazie Maria Elena è un tema che mi sta a cuore credo ci sia a cuore perché la mia identità passa soprattutto per il mio essere donna e in qualche modo le esperienze che come donna ho vissuto e ho visto vivere magari a persone vicine amiche il tema della violenza in famiglia è un tema di cui dovremmo parlare molto di più perché è molto più diffusa e frequente di quanto possiamo immaginare ci sono situazioni a volte anche il vicino di casa il vicino della scala accanto situazioni di cui siamo a conoscenza che ci fanno magari un po' tremare le gambe e sperare ogni sera che le cose vadano bene che non finiscono ecco no noi dobbiamo essere molto più concreti fattivi avere il coraggio di denunciare di avvicinare queste donne di incoraggiarle e di dare la possibilità e la speranza che ci sia comunque un appoggio un sostegno era una promessa che avevo fatto l'anno scorso in campagna elettorale ho cercato di mantenerla e ho portato in consiglio comunale una mozione che è stata approvata all'unanimità perché il comune di Fano diventi parte civile nei processi per violenza domestica o femminicidio è un risultato importante che non è soltanto una dicitura in un pezzo di carta significa molto significa che le istituzioni in particolare in questo caso il comune di Fano è accanto alle donne che subiscono violenza è accanto alle donne le sostiene le appoggia le accoglie contro ogni forma di violenza gli uomini gli uomini che sono in qualche modo i fautori di questa di questa violenza devono capire devono riconoscere nell'istituzione pubblica un nemico un nemico potente un nemico forte che osteggerà in ogni forma e con ogni situazione le violenze domestiche dai temi sociali ad un'altra questione quella delle infrastrutture quelle mancanti di cose che prima avevamo e che adesso non ci sono più come per esempio la caserma o altre realtà che stanno soffrendo come la marina turistica e altre invece ancora che si possono e si devono realizzare come la Fano Urbino ecco come hai deciso di intervenire sì Maria hai detto benissimo avevamo una serie di strutture e non le abbiamo più avevamo la caserma non c'è più avevamo un tribunale non c'è più la camera di commercio non è più a Fano l'aeroporto stenta di collare la marina turistica non è morta non è viva è sempre più vuota avevamo un porto una marineria che era uno dei più importanti dell'Adriatico e siamo rimasti con poche barche la situazione di Fano in tema di infrastrutture è una situazione che comunque è emblematica di tutta la regione cioè non è che ha solo Fano questi problemi i problemi delle infrastrutture sono problemi generali basti pensare alla linea ferroviaria adriatica qualche anno fa si fermavano a Fano tutti i treni o quasi tutti ora a Fano si fermano sempre meno linee importanti questo significa che cosa? che sul tema del turismo sicuramente siamo svantaggiati un turista che voglia venire da Reggio Emilia da Modena e si deve fermare necessariamente a Pesaro e prendere poi il regionale per raggiungere Fano insomma non è poi che venga aiutato e sostenuto c'è un tema però che mi appartiene ci appartiene anche come Fano Città Ideale che è la mia lista fanese che è il tema della Fano Urbino la linea ferroviaria Fano Urbino che la legge 128 del 2017 pone come linea da tutelare e da salvaguardare e da riprendere come ferrovia storica è una delle 18 tratte indicate da quella legge e quindi su quella linea c'è l'attenzione di una normativa di una legislazione questa ferrovia turistica che alcuni vorrebbero in realtà è osteggiata da tanti perché su quella tratta su quel sedime ci sono molti altri interessi che sono interessi economici e interessi politici il sedime ferroviario è un patrimonio è un patrimonio perché è un collegamento intatto rimasto inalterato nel corso di questi anni e sarebbe assolutamente impossibile recuperarlo domani se oggi lo dovessimo perdere è chiaro che la linea turistica sarebbe solo il primo passo per che cosa? per arrivare poi ad una metropolitana di superficie che colleghi Fano con Urbino e quindi che sia un mezzo veloce per percorrere tutta la nostra vallata sostitutivo quindi del traffico su gomma e avrebbe un risvolto vantaggiosissimo dal punto di vista ambientale perché sicuramente meno inquinante sociale perché permetterebbe di collegare tutte le città e i paesi della nostra vallata in maniera molto più veloce e comoda pensiamo di prendere la bicicletta saliamo a Calcinelli nella metropolitana di superficie arriviamo a Fermignano se vogliamo o a Fano e poi con la nostra bicicletta giriamo per il centro e così ritorniamo a casa questa è una cosa che viene fatta in altre regioni ci sono degli esempi in Italia ovviamente all'estero ma ci sono anche in Italia dove queste linee queste metropolitane di superficie hanno avuto un enorme successo tra l'altro nel nostro caso Fano Urbino sarebbe anche avrebbe un risvolto positivissimo sul discorso turistico perché il turista che arriva a Fano e che prende una metropolitana e raggiunge velocemente Urbino sicuramente diventa una acquisizione importante turistica e quindi anche economica Lucia siamo arrivati quasi al termine di questo nostro spazio vorrei chiederti a questo punto perché i cittadini dovrebbero darti la preferenza è una domanda molto impegnativa perché riempie di grandi responsabilità qualunque cosa io dica ora diventa comunque per me un impegno io ho imparato ad assumermi i miei impegni sono in quella fase della vita in cui dico posso permettermi di giocare tutte le mie carte a servizio degli altri i figli sono grandi la famiglia in questo momento mi accompagna non ha più tanto bisogno di me quanto di che cosa hanno bisogno le mie figlie di sapere che la loro mamma ci prova ci prova e ha provato a cambiare le cose ecco le persone che mi hanno dato fiducia nel precedente amministrative le persone che continuano a dirmi devi candidarti crediamo in te non devi cedere di un passo perché queste battaglie per noi sono assolutamente importanti ecco sono loro forse che potrebbero dare la risposta a questa domanda perché perché darmi il voto perché serve sicuramente qualcuno che ci metta la faccia e che faccia il gioco il gioco importante per conto di chi non ha voce per conto di tutte le persone che hanno delle necessità delle fragilità dei bisogni delle richieste e non hanno la forza di poterle portare avanti io dico che con Francesco Acquaroli e mi piace molto lo slogan che ha scelto costruiremo una storia nuova Francesco ha scelto questo slogan molto bello e impegnativo una storia nuova quindi costruiremo un libro nuovo per la nostra regione e il mio impegno è quello di scrivere una pagina di quel libro una pagina in cui ci siano l'impegno per l'ospedale Santa Croce per gli altri ospedali che sono stati chiusi un impegno che sia per la mia città ma anche per l'intero territorio per tutte le problematiche che possono essere affrontate perché noi abbiamo una quantità di risorse di cui dovremmo essere assolutamente orgogliosi abbiamo le risorse del territorio abbiamo il nostro senso della bellezza abbiamo la cultura abbiamo le tradizioni abbiamo tanto e dico io ricominciamo da noi possiamo assolutamente ritornare a far diventare grande la nostra regione Lucia io ti ringrazio grazie Maria Elena ringraziamo tutti i telespettatori di Fano TV è stato è stato un grande piacere è una bella chiacchierata tra donne ogni tanto ci vuole grazie grazie Lucia ogni tanto ci vuole grazie ai nostri telespettatori continuate a seguirci naturalmente con i programmi di Fano TV grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti